Fratelli e sorelle bianconeri, non so voi ma io ancora francamente non ho smaltito la delusione e soprattutto la rabbia per quello che non è stato, per la mancanza non solo di gioco ma la mancanza di mordente, di grinta, di voglia di vincere questa partita che ho visto solamente nel primo tempo forse in Ronaldo un pochino andare a contrastare, andare a cercare di incitare i compagni come ogni volta al primo raggio di sole, al primo gol preso si scioglie sempre la neve, si scioglie sempre tutto, questa squadra si disgrega ogni volta però mi preme una cosa, mi preme parlare a tutte quelle merde che godono, si è giusto godere, si è giusto godere, sbeffeggiarci è giusto ma ci sono persone come Donato Inglese lo conoscete vero? Sicuramente lo conoscete quel porco di Donato Inglese io francamente non metterei mai la maglia di un'altra squadra, io amo troppo questi colori per mettere la maglia di qualsiasi squadra anche straniera figuriamoci italiana, solo perché ha battuto la Juve io non metterei mai la maglia né del Milan né dell'Inter, non ne parliamo ma Roma, Lazio, Napoli, non potrei mai mettere addosso questi colori, la mia pelle si ribellerebbe la mia pelle si ribellerebbe, lui è talmente porco che lo fa canta la canzoncina di sfotto, ma tutti sappiamo cantare, Donato, tutti sappiamo cantare, anch'io ti posso cantare quanto sei stronzo tu, Donato Inglese, quando ti vedo mi viene da vomitare e a fine anno te lo prenderai come succede ogni anno, Donato Inglese pezzo di merda tu rosicherai quando arriveremo a maggio dovevo pure risparmiare la saliva, non vale manco la pena per elementi così si definisce il maestro, il maestro di questa grandissima cippa idiota ai 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 ragazzi questo non deve farci dimenticare la critica, la giusta critica io ce l'ho un po' con tutti ragazzi ma con le magagne di mercato che ci sono e gli errori che sono stati fatti non dimentico quello che sta combinando Sarri io ho sempre creduto nel progetto Sarri ma Sarri, non sto parlando del progetto tecnico di Sarri anche se già dovevamo vedere qualcosa dopo 4-5 mesi qualcosa deve pure entrare a vedere però ci sta difficoltà di assimilare schemi e quant'altro ci può anche stare quello che non sopporto è di non aver dato mordente e grinta a questa squadra se proprio non riesci a dare un gioco devi dare almeno la grinta capisci, capite un motivatore sì, non dico come il porco Salentino però, attenzione anche alla Gattuso, anche agli allenatori almeno dare un po' di mordente, di grinta di sprono a questi ragazzi no, non riesci a portare nulla dal punto di vista tecnico non riesci a imporre il tuo gioco ma almeno cazzo ma fagli mettere un po' di pepe al culo a sti giocatori e poi quello che non sopporto di Sarri è l'essere diventato come dico io un servo della club lui l'emblema il Sarribole era l'emblema della ribellione al potere dei pensieri di sinistra rivoluzionari eccetera, eccetera che cosa succede? che arriva alla Juve e comincia a uscire la lingua e a leccare sì, Agnelli sì, Agnelli centrocampo sì, non voglio nessuno come dici tu non spendiamo non spendiamo spendiamo solo parametri zero sì, Agnelli sì, Agnelli mi contendo non mi ha battuto i pugni colpevole chi ha fatto questo mercato e chi ha comprato questo centrocampo e questi terzini indecenti e impresentabili ma colpevole anche chi non batte mai i pugni sul tavolo chi non si ribella e compartecipe è colpevole quanto Agnelli Paradici e Nedved è colpevole anche Sarri perché doveva dirlo che questo centrocampo è una chiavica il suo gioco non lo vedremo mai con questi tre centrocampisti mai 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 perché Pjanic non vale un foruncolo del culo di Andrea Pirlo lo sappiamo le mezzali fanno vomitare e i terzini sono impresentabili e così prenderemo a fine anno 65 gol capito Sarri e ce l'avrò a morte con te soprattutto per questo per essere diventato un servo della club leccalo bene il culo di Agnelli maledetto cerca di portare questo scudetto cercate tutti cercate tutti di portare questo scudetto almeno quello e di andare avanti in Champions il più possibile non vi giuro che vi vengo a prendere uno a uno e vi sfaccio un culo come una casa se mi fate perdere questo campionato per lui per il traditore ragazzi mi raccomando ci sentiamo domani per gli auguri natalizi così ci rassereniamo un po' tutti perché le palle stanno girando tanto stanno girando vediamo col Natale di rasserenarci un pochino tutti ci sentiamo domani per gli auguri ragazzi fino alla fine